Il problema è questo, fondamentalmente in quest'Aula sugli interventi di fine seduta si dichiara qual è il tema, 8 e seguenti sul buon andamento dell'Aula Sull'andamento di quest'Aula per quanto riguarda gli interventi di fine seduta si dichiara qual è il tema e si parla di quel tema Io oggi vedo che quest'Aula approfitta, anzi approfittano i partiti di minoranza per attaccare continuamente i partiti di maggioranza Allora, questa non è una prassi che è stata adottata negli ultimi 5 anni nessuno di noi l'ha mai utilizzata in questo senso qui Assolutamente, questi sono interventi sul regolamento Io invito gli altri partiti a fare i propri interventi sul regolamento durante la seduta e non a fine aula come sta diventando invece un'abitudine Grazie Vi dico, si è ascoltato anche gli ultimi tre interventi E' chiaro che la Presidenza della Camera, io come Presidente della Camera, tutelo e tutelare Grazie